Andiamo ora a Châtillon, più precisamente nel repertorio del convento dei frati Cappuccini, dove è stata riproposta la cena del pellegrino. Ospite della serata è stato l'autore Franco Facco che ha raccontato il suo viaggio a Santiago de Compostela. Forse non capita più spesso come ai tempi dei grandi pellegrinaggi lungo la via francigena, ma di tanto in tanto qualcuno si ferma ancora in cerca di ristoro e ospitalità dai Cappuccini di Châtillon. Sono solo cinque quelli che vivono abitualmente tra le mura del convento, ma se qualcuno bussa la loro porta sono sempre pronti a mettere a disposizione la loro camera degli ospiti. E' anche per rinnovare la tradizionale accoglienza della struttura e dei suoi occupanti che il gruppo Cultura di Châtillon, in collaborazione con l'associazione Les Amides Prosper, ha organizzato la quarta edizione della cena del pellegrino. Prima che i piatti arrivassero in tavola, l'autore eporediese Franco Facco ha presentato il suo libro Un pellegrinaggio a Santiago di Compostela, racconto del suo primo viaggio fino al santuario dedicato all'apostolo Giacomo. In bicicletta, perché lui stesso ama definirsi un pellegrino a pedali. Mettersi in cammino, o in questo caso in sella, significa però anche affrontare un percorso dentro se stessi. Il viaggio interiore è un viaggio che si manifesta prima come bisogno, quando si parte, e poi come realtà. Il cammino è veramente una fonte di autenticità, nel senso che si hanno dei bisogni primari, si hanno dei bisogni emotivi, dei bisogni fisici, bisogno di comunicare, e queste cose sono veramente autentiche. Per non allontanarsi troppo dall'atmosfera del libro, anche le portate sono state pensate, combinando specialità della tradizione italiana, di quella francese e di quella spagnola. Una proposta che comprendeva tra i piatti zuppa di cipolla, maiale arrosto con finocchi e torta di mela e noci, il tutto bagnato da sangria, barbera e tisana al genepì. A tenere compagnia ai commensali anche i frati cappuccini, che accolgono con convivialità nel loro refettorio, sia chi è spinto dalla fede, sia chi è semplicemente...